E' un vero e proprio colpo milionario quello messo a segno alla Banca Campania Centro di Via Silvio Baratta nel quartiere Irno a Salerno, dove questa mattina i dipendenti dell'Istituto Bancario hanno scoperto che era stato svaliggiato il cavo. I Ladi sarebbero entrati nella banca dalla parte sotterranea, un colpo da banda del buco. Potrebbero essere entrati in azione tra sabato e domenica, un colpo a regola d'arte strutturato e portato a segno da professionisti. Lanciato l'allarme, stamani sul posto l'immediato arrivo di alcune pattuglie della Polizia, agenti della squadra mobile e della Polizia Scientifica, che subito hanno avviato le indagini spezionando i tombini delle fogne in prossimità della banca. I banditi avrebbero messo a segno una vera e propria operazione San Gennaro. Il bottino sembrerebbe consistente, oltre ad una liquidità ancora non bene accertata, di circa 140 mila euro in contanti, i malviventi hanno portato via il contenuto delle cassette di sicurezza, alcune delle quali importanti, i cosiddetti beni rifugio come oro, pietre preziose, denaro contante e quant'altro sia possibile custodire in un istituto bancario. Dalle prime indagini degli inquirenti i malviventi sarebbero entrati sfruttando il percorso fognario, diverse le ispezioni fatte questa mattina nei tombini, fino a giungere al percorso di un cunicolo lungo il fiume Erno. Gli agenti che hanno ripercorso il tragitto, presumibilmente compiuto da ladri, anche con l'ausilio dei vigili del fuoco e dei tecnici della Salerno Sistemi, avrebbero ritrovato sul posto anche diversi attrezzi utilizzati per lo scasso del muro, che ha condotto al cavo, nonché gruppi elettrogeni. Il colpo di questa mattina, che ha richiamato l'attenzione di tanti passanti, ha riportato al ricordo dal mega furto alle poste centrali di Salerno, dove anche in quel caso i malviventi si calarono da un tombino sul lungomare fino a raggiungere l'edificio. Caso vuole che la banca Campania Centro di via Baratta, svaliggiata questo weekend, solo una settimana fa era stata a bersaglio di una rapina compiuta all'esterno dell'istituto, con il sopraggiungere di una vettura di vigilanza privata che si apprestava a consegnare 25 mila euro in contanti. Grazie. 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 Grazie.